What's up guys it's me WeSpeaks come sempre e benvenuti nella decima parte di Inside continuiamo quindi la nostra avventura con il nostro amico ragazzo che sta il nostro amico sta fuggendo non si sa bene da chi non si sa da cosa un muro ok il nostro amico maglietta rossa calzoni neri sembra un cinesino ma non ci interessa ormai possiamo andare nelle profondità marine senza alcuni problema cazzo guardate ci sono la cosiddetta Gestapo corriamo corriamo qua non si può andare ho paura adesso perché siamo proprio nel cuore della base nemica cioè praticamente da quello che sono riuscito a capire in tutta questa storia è che noi siamo scappati da questo ipotetico esperimento ora dobbiamo fare molto attenzione perché poi c'erano i soldati non ci devono vedere i soldati oddio ma sono vivi non succedono lì in quello stato vegetativo dai forse ci aiutano dai ragazzi siete nudi come vermi ma potete darci sicuramente una mano attenti eh non vi ammazzate quindi praticamente qua si fanno degli esperimenti sul controllo mentale ok ora ragazzi datemi una mano e lanciatemi di più venite qua no no ok ci servono altri ok comunque dobbiamo abbassare quella cosa come possiamo fare ma vedi qua ci sono altre ok vediamo che cosa succede ok vediamo che cosa succede dovete lanciare dal mare questo è rimasto a mezzo busto forse no aspetta mi lanci grazie grazie loro mi continuano a seguire io quindi dovrei riuscire no cazzo ho sbagliato aspetta cerco di rimanere qua ok sul bordo così da poter cadere cercare di schiacciare la cosa non mi sembra male come idea grande andiamo ragazzi oh altri stronzi ciao amici tu non fare più le pulizie venite da noi venite dalla nostra parte ok no ma strozzi cazzo sono l'unico morto ottimo andiamo tutti quanti ne lascia insegure ci siamo tutti? a posto vabbè quelli con le mutande mi stiano un po' lontano eh non mi vado di stare vicino a voi ahhh ehi manteniamo le distanze ok ora mi dovete dare una mano andiamo no guardate 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 là no dobbiamo lasciare i nostri amici ma si sono proprio uffici è un laboratorio no 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 oddio ma che sta succedendo sono tutti là che guardano qualcosa sta succedendo qualcosa di importante ecco che cazzo sta succedendo uomini pesce controllo mentale uomini pesce e ok 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 Mamma mia che... Che ansia! Ma perché non stiamo andando così? Ma che cazzo siamo noi? Cioè stiamo distruggendo tutto? Cioè stiamo distruggendo tutto? Cioè stiamo distruggendo tutto? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Andiamo a trovare un sistema 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 Oh mio Dio Spacchiamo tutto Ragazzi siamo un mostro devastante Non pensavo potesse succedere Andiamo a trovare un sistema Che cazzo sta succedere E che cazzo volete fare gli esperimenti Brutti struzzi Brutti struzzi Andiamo a trovare un sistema 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 Prendi Prendi No 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 C'è Ah i cani Dove sono i cani? dove cazzo sono quei cani di me? Vedi? Stavete zitti eh? Ma un piccazzo Stavete zitti? Ma non fate tanto più i figli eh? E levati dai cuglioni E levati dai cuglioni Vaffanculo Vaffanculo Ah Mio Dio no 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 Dio No dobbiamo salire Cazzo Oddio Oddio è devastato Sali Salite Micchia si è infilato Bravo Sembra un cazzo di stronzo Oh Mio Dio No vabbè Io sto Lo sto capendo tanto bene Fesidia No vabbè Bellissimo Oh Non vogliamo tornare nel mare Non vogliamo tornare nel mare Lo so con lui questo mostro vuole ammazzare chiunque si chiunque si metta nel suo tragetto Oddio No No Ma forse ci vogliamo ammazzare Non ci va dentro No No Non vogliamo ucciderci No Sto in silenzio perché Tempo Cioè così strano Cioè Vedrai Vaffanculo Vaffanculo Dai Dai Dobbiamo distruggere Via Siamo distruggendo tutto il mondo ragazzi tutto niente ci sfugge Qualca troppo Allora lo possiamo prendere Vedete Sì Adesso un camion abbiamo preso Allora Oh Oh Mamma mia Sale sale E poi non è che scappano Cioè No 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 E ho capito pezzo di merda Non rimane aperta No 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 Dai No 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 Adesso Un altro Cazzo No Cazzo No Cazzo 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 Cazzo, sta succedendo? Stiamo distruggendo tutto. Dai, esci. Esci. Siamo usciti. Abbiamo portato con noi distruzione. Io non so che cazzo sta succedendo, davvero. Mi rendo conto che è una cosa stranissima, cioè che cazzo è? Che cosa vogliamo fare tra... Uh... Non so se ci possiamo arrampicare. Siamo usciti, siamo fuori. Che cazzo siamo? Siamo un mostro enorme. A quanto pare distruggiamo gli anderen. Dio, che cazzo... Oddio, ma che... Non si muove più. Non so che sta succedendo, però non si muove più. Sì. 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 È finito così. Ragazzi, è finito così. Sono... Sono sconvolto, veramente. C'è... Incredibile. E con queste immagini... Finisce questo gameplay... Che mi ha lasciato veramente... Spiazzato. C'è, magari ci sono dei risvolti, dietro questa trama, che... Fa riferimento proprio agli esperimenti magari scientifici che vengono fatti, in questo caso sugli esseri umani, cioè per creare un mostro quanto pare, forse quello rappresenta un tumore della società umana magari, non so, bisogna fare una riflessione approfondita per quanto riguarda questo finale non lo so, stranissimo, cioè abbiamo ucciso, distrutto, incredibile. Io vi invito a lasciare quindi un commento sotto questo gameplay, siamo stati e abbiamo vissuto un'avventura entusiasmante insieme, mi raccomando, se non vi siete iscritti lasciate un'iscrizione per sostenere questa avventura, un like se il video vi è piaciuto e noi ci rivediamo con un prossimo gameplay qui su WeSpeaks. Un saluto, ciao a tutti!